Nulla da fare per l'Orlandina Basket che nella 27esima giornata del campionato di Serie B crolla al pala Moretto di Desio con il punteggio di 89 a 73. Sfugge così la possibilità di raggiungere le prime quattro posizioni in classifica e adesso la infodrive è scesa al decimo posto. Sarà fondamentale risalire per conquistare un posto tra il quinto e l'ottavo per avere il fattore campo a favore nei play-out per rimanere in binazionale. Non bastano ai paladini la doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi di Binelli e i 14 punti del capitano Laganà. Nel primo quarto sono due triple di Binelli a fare segnare il sorpasso per i siciliani che chiudono i primi 10 minuti in vantaggio 20-22. Molteni apre la seconda frazione di gioco ma l'Orlandina continua la corsa e prova a prendere le distanze dai padroni di casa. Grazie ai canestri di Binelli, Occhereche e Baldassarre più 6, 33-39 a meno di tre minuti dalla fine del primo tempo. Occhereche poi manda tutti negli spogliatoi con il punteggio di 36-41. Al rientro dalla pausa lunga Triassi, Occhereche e Laganà raggiungono il massimo vantaggio più 9 sul 38-47 ma Fioravanti, Maspero, Mazzoleni e Lovano non vogliono mollare e riducono nuovamente il distacco al meno 3, 46-49. Nel resto del terzo parziale Capodorlando trova con difficoltà il fondo della retina e Desio ne approfitta riportandosi in vantaggio con il punteggio di 61-55. Nell'ultimo periodo Desio mette il turbo e con un break di 9-0 a quasi 5 minuti dalla fine della partita sigla il massimo vantaggio sul più 15, 70-55. Non arriva la auspicata reazione della Infodrive che esce sconfitta dal Palamoretto con il punteggio finale di 89-73.